Non diamo bene. Oh, che hai combinato? Sei caduto dal toro meccanico al saddle ranch? Basta con i liquori messicani. Ieri sera non sono uscito. Davvero? Che cosa hai fatto? Niente. Solo una cosetta nel primo pomeriggio. Ah, sì. Hai fatto una colonoscopia? Triathlon. Scusa, e quando ti saresti allenato? Neanche una volta. Hai fatto quasi due chilometri a nuoto, 40 in bicicletta e 10 di corsa senza che il tuo corpo fosse preparato. Era un Ironman. I chilometri di conseguenza erano 3,8, 180 e 42. Senza prepararti. L'ho fatto sull'onda del momento. Significa che sei momentaneamente impazzito credendoci un ventenne. Che cosa volevi dimostrare? Che potevo farcela. Prega che le tue prestazioni qui non ne risentano. Sto benissimo. Non lamentarti se ti fanno male i polpaci o hai capezzoli infiammati. Perché ancora non ti ho parlato del retto del femore. Non mi interessa. Però ho una domanda. Ci sei arrivato alla fine? È ovvio. E il sole c'era ancora? Sì, uomo di poca fede. Sono arrivato al momento giusto? Perché ho avuto questa sensazione. Un buon momento. Ragazzi, abbiamo un nuovo caso. Ti serve aiuto, Ironman? Io vi raggiungo tra un attimo. Prima devo... Devo controllare alcune cose. Sì, basta che non ti lamenti dei capezzoli infiammati. Tranquillo. Non importa. È una lunga storia. Certo. Posso farcela.